Ci hai provato ieri, è andata come è andata, ci hai provato oggi, che soddisfazione hai? Sono molto contento di aver strappato questa vittoria qui oggi, ho dimostrato ieri di avere una gran gamba e oggi non ho sbagliato. Ho avuto un po' di fortuna nel finale, c'è stato il buco fatto da Pozzo Vivo, che mi ha facilitato anche a me lo sprint e è andato tutto bene. Ringrazio la squadra e è andato tutta la perfezione. Qua significa questa vittoria per te e per il tuo giro d'Italia? Diciamo che per me inizia la salita, però per me inizia la discesa, perché il mio dopo 5 tappe non l'ho già fatto, però ho già un bel buttino in tasca e quindi posso vivere la giornata, è anche divertibile. E il tuo vivere alla giornata quale significa a partire da domani? Ma domani penso che mi prenderò un giorno un po' di riposo, perché comunque ho speso molto tra ieri e oggi, però non è finita quella per me, voglio sfruttare ancora, ci sono altre tappe adatte a me e perché no provare una fuga da distante nelle tappe in montagna. Grazie.